da franco quei due giochi che buttano fanno così non capirono più normale io a franco ci avevo detto non parlare sempre con tutti non fare entrare persone non mi voleva credere io non faccio entrare a nessuno questa cosa tutto il giorno che è così e dici che cammina ho detto tre volte alberto e mi fa camminare qua non vedo camminare il braccio ma che deve camminare? quello a gocce si la cavo dei denti tu? si la cammino ma prima camminavo qua non vedo niente ci ho detto pure il dottore che è passato da ho detto che va bene e che deve e che ci devi fare? quello che deve fare? questo è acqua acqua e sale cosa ti sembra che cos'è? che cosa avete mangiato ieri? il pollo? avevo preparato il pollo per... cosa tu vuoi fare? certo ci chiedo una cosa finché prima che rispondi no quello non sono più scusi non stiamo più nel 1800 quanto uno sta male? guarda dottore e adesso c'è... e questo facciamo la pezza malattia adesso c'è l'altro qui fino a un certo punto uno può fare come fa lei a Baccalai ieri mattina si è andata... per mettersi in stavola si è andata a cuore è arrivata di sino alla sede e è caduta... con tutte le cari una della parte all'altra e lì è caduta con una Baccalai per metterci in stavola io non lo so che frettaccia che cazzo deve fare? non c'era tutti e due in pensione siete? che frettaccia avete voi? e adesso... adesso... e non è... e non è... e poi la porto fuori io c'ho freddo e adesso a Natale che fa? viene di nuovo? eh? 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 o ancora è qua? eh... 25 sarà per... la parola sarà qua poi 27 se ne va devo lavorare un paio di tonno e poi torno di nuovo e fa pure fino a anno ah! ce l'ha detto allora ma... eh... beh... finché prima... prima... ora è ancora peggio del libro visto quelli che si fanno sempre grandi finiscono tutti così finiscono più peggio di così non puoi finirci ok